Avete fatto una cosa splendida, ecco, sono già vecchio, ma quando diventerò più vecchio mi sa che sarò uno degli ospiti di Ciccara, vaderò io all'orto ai pomodori e a tutto il resto. Ancora complimenti, ragazzi, 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 è quella che fa da trail, ma hai delle collaboratrici, dei collaboratori veramente impusiaspanti. Prami, un bacio, ciao. Perché da noi le emozioni diventano cura. Siamo pronti ad accoglierti, ci trovi in Via Immacolata a Ciccara. Casa Paese ti aspetta.